Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo in clausura, in questo luogo, a queste scale, che Padre Pio, accompagnato dai suoi confratelli, faceva spesso, quotidianamente, poi con l'ausilio dell'ascensore inserita all'interno della clausura per dargli la possibilità di non fare sempre tante scale. Però nel primo periodo in cui era qui a San Giovanni Rotondo, quindi parliamo dei primi anni in cui si diffuse questa notizia in tutto il mondo, di questo frate Cappuccino che viveva qui sul Gargano, e i quotidiani scrivevano che faceva tanti miracoli, attirava tante persone, tanti devoti e anche tanti sacerdoti. Tra i primi sacerdoti che giunsero qui a San Giovanni Rotondo ci furono gli sacerdoti francesi dell'Istituto Cattolico di Lilla. Erano guidati dall'abbate Benoit. Quando giunsero qui a San Giovanni Rotondo parteciparono alla messa di Padre Pio e proprio l'abbate Benoit aveva un problema che voleva risolvere e venne qui con l'intento di parlare con Padre Pio. Ma all'inizio non ebbe un impatto particolarmente favorevole nei confronti di Padre Pio e quel problema che aveva e che voleva risolvere, di cui voleva parlare con Padre Pio, a un certo punto lui dimenticò anche questo passaggio, dimenticò anche lo stesso problema. Tant'è vero che nel momento in cui gli doveva parlare di questo problema lui lo dimenticò. Quando fu il momento di congedarsi, poi tutti i sacerdoti, tutto il gruppo di sacerdoti francesi andarono verso Padre Pio e gli presentarono delle piccole immaginette per apporre dietro una piccola frase, come spesso faceva, una piccola indicazione delle frasi che Padre Pio lasciava a questi giovani sacerdoti. Giunto il turno dell'abbate Benoit, nel momento in cui si avvicinò a Padre Pio per salutarlo, fu Padre Pio stesso che gli prese il breviario, cominciò a sfogliarlo e trovata una pagina bianca cominciò a scrivere. Chiuso il breviario lo consegnò all'abbate Benoit che sulla Via del Ritorno, quando lo andò a riaprire e leggere quello che aveva scritto Padre Pio, era la risposta a quel quesito che lui aveva dimenticato. L'abbate Benoit si accorse così che Padre Pio da Pietrelcina non era quel semplice sacerdote che aveva pensato in un primo momento, ma aveva questo dono privilegiato, leggere appunto nel passato della vita di chi gli stava dinanzi.